Vaccini e la campagna ha un piano strategico nel quale sono indicate fasi priorità, categorie fragili ed estremamente vulnerabili a cui dare la precedenza, ma saranno i medici di famiglia con cui ieri la regione ha ratificato l'accordo per coinvolgerli a pieno a stabilire le priorità e criteri sulla base della conoscenza diretta della storia clinica e dello stato di salute di ciascuno assistito. Il piano, dopo gli ultraottantenni, prevede di vaccinare per prime le persone estremamente vulnerabili per patologie a partire dai 16 anni di età. Le priorità partono innanzitutto dall'età, lo abbiamo visto già dall'inizio, gli ultraottantenni. Al di sotto degli ottantenni, quindi dai 79 ai 75, le persone affette da patologie croniche, intese patologie croniche, quelle che hanno un maggior numero di patologie in carico, per esempio pazienti diabetici, pazienti cardiopatici, pazienti oncologici, pazienti che presentano purtroppo complessità perché hanno più di una malattia. Sullo sfondo il grido d'allarme lanciato dai 520 cittadini campani affetti da fibrosi cistica che dicono noi non possiamo aspettare ancora. Intanto in campania ci sono altri 2709 casi di covid e il tasso di incidenza schizza l'11,48%. Sullo sfondo il caso di Anna Maria Mantile, insegnante 62enne del vomero che non è morta come si temeva per il vaccino anti covid ma sarebbe morta per un infarto intestinale provocato da un'ernia strozzata.